Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione del TG60, per questo appuntamento del mattino dedicato all'informazione. Iniziamo dunque insieme la giornata nel segno delle notizie, sfogliando insieme i quotidiani usciti questa mattina nelle edicole, sbirciando anche sulle notizie che appaiono in tempo reale online sui siti delle principali testate nazionali per le notizie dall'Italia e dal mondo, ma arricchendo questo spazio anche con le notizie che arrivano dalla nostra redazione in tempo reale. Iniziamo questa mattina proprio da una notizia che ci arriva dalla nostra redazione, si fa riferimento ad un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Toscana, lungo la via Pratese, la strada che da Pistoia porta a Prato, ma nel tratto ancora nel territorio comunale di Pistoia, quindi denominata via Toscana. A pochi chilometri dal centro abitato c'è stato lo scontro frontale tra due vetture. Fortunatamente l'esito dell'incidente non è stato particolarmente grave con una persona che è stata portata in codice verde, quindi l'intervento non è stato giudicato particolarmente grave, è stato portato in ospedale al San Jacopo sul posto, la Polizia Municipale che dovrà accertare la dinamica di questo scontro tra vetture e un'ambulanza della Misericordia di Pistoia che ha soccorso il paziente. Questo l'aggiornamento sul fronte della cronaca, tuffiamoci subito tra le pagine dei quotidiani, questa mattina iniziamo con La Nazione andando un po' a caccia di notizie per capire un po' come i colleghi della carta stampata hanno deciso di raccontare la giornata di ieri, come sempre in taglio alto c'è spazio per la cronaca locale che ci porta a parlare di Montecatini, l'abbiamo fatto anche noi ieri sera nel nostro notiziario con un aggiornamento anche rispetto a quella notizia o meglio una chiave di lettura di quell'evento, Montecatini-Ferovia colpo di scena, rimarrà il binario unico, un titolo che in realtà è nei fatti una proposta, cioè quella di realizzare un binario unico solo nel tratto Montecatini-Pescia dando avvia al doppio binario da Pescia a Lucca, dunque proseguendo secondo programma. Questa è una chiave di lettura in quanto lo vedremo tra poco quando approfondiremo la notizia, si tratta di una proposta avanzata nel corso dell'incontro di ieri, però c'è un tavolo convocato proprio per capire se a realizzarla o meno oppure tornare indietro sui progetti originari. C'è una protesta da parte dei sindacati, di parte dei sindacati delle poste che paventano preoccupazioni circa una riorganizzazione del servizio di consegna posta a casa a giorni alterni, anche pacchie raccomandate, presto saranno a rischio caos. L'alto là che viene lanciato dai sindacati anche dopo esperienze analoghe, cioè di consegna di posta non quotidiana ma appunto giorni alterni che potrebbe in qualche misura creare dei problemi come è stato in altre province della Toscana dove questo sistema era stato già attuato. Politica e inchieste come ormai avviene da diverso tempo si uniscono come accade nel titolo principale di questa mattina scelto per la nazione. Il titolo fa riferimento ad un'indagine che coinvolge il padre dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sindacato il padre di Renzi e il motivo è un'inchiesta sul Consit, traffico di influenze, la replica del padre di Renzi, reato fantasioso, io un uomo onesto. Si però si guarda anche ciò che sta succedendo all'interno del Partito Democratico, congresso, la minoranza PD, se Matteo non cede, subito la scissione. A riguardo a proposito di scissioni nel Partito Democratico, il tema è stato affrontato anche nel corso della conferenza stampa che c'è stata ieri a Pistoia che ha visto allo stesso tavolo il sindaco di Pistoia e quello di Prato, Matteo Biffoni e Samuele Bertinelli, i nomi sono invertiti, che congiuntamente hanno invece detto il loro no a un'ipotesi di scissioni. Biffoni è anche Presidente del Lanci. La fotografia però che ci dà un po' il polso di problematiche diverse, in genere un tema un po' più leggero, questa volta invece si parla di un problema reale che riguarda tantissimi operatori del trasporto, i tassisti italiani, con rivolta dei taxi, è il titolo scelto. Si vede qui nella fotografia tante auto bianche ferme in una manifestazione che si è tenuta in diverse città italiane. Scontro, il governo rinvia la stretta su Uber, città bloccate. Uber è il sistema di sfruttamento online, diciamo di prenotazione online dei trasporti e c'è stata la protesta. Vediamo proprio da questa cosa è accaduto. Tassisti in rivolta, le città in tilt, aeroporti e stazioni paralizzate, manifestazioni spontanee dei conducenti, a Roma un assedio al Senato. Vediamo nella fotografia la protesta che c'è stata a Torino. Qual è il motivo di questa mobilitazione da parte dei tassisti? La protesta scoppia, si legge nel pezzo firmato da Alessandro Ferrugia, contro il rinvio a fine anno, contenuto nel Mille Proroghe, che sospende l'efficacia di una serie di norme che dovrebbero regolamentare il servizio dei taxi ed impedire le pratiche di esercizio abusivo. Dunque questo provvedimento slitta e scatta la protesta. A proposito di decreto Mille Prologhe, facciamo un salto sul Tirreno dove in alcune pagine si sintetizzano bene quali sono alcuni degli altri provvedimenti previsti all'interno del Mille Proroghe. Dunque cerchiamo di capirne di più perché alcune sono importanti e interessanti. Una di queste, che ha fatto molto discutere, molto scrivere sui quotidiani, ma lo abbiamo fatto anche noi in chiave locale, riguarda quello degli ambulanti. E proprio da questo settore si sceglie di prendere spunto per il titolo in questo pezzo del Tirreno, salve le licenze degli ambulanti, restano le indennità di disoccupazione per collaboratori con il contratto scaduto. Tra le novità del Mille Proroghe, appunto, c'è stato il congelamento per un periodo di due anni dell'entrata in vigore della famigerata direttiva Bolkestein, che prevede la messa a gara di tutte le concessioni sul suolo pubblico. Dunque si slitta di due anni. Tra le altre iniziative, un pacchetto di interventi per le zone terremotate, partendo dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, ma poi si parla anche di uno slittamento della sperimentazione, della cosiddetta lotteria degli scontrini fiscali, mentre per quanto riguarda il settore delle pensioni, i pensionati non dovranno restituire le somme percepite in più nel 2015, almeno fino al 2018. Queste e alcune delle altre novità inserite all'interno del Mille Proroghe. Torniamo alla Nazione, andiamo a vedere la notizia principale che riguarda la situazione del padre di Matteo Renzi, Tiziano. Appalti e traffico di influenze, il padre di Renzi sotto inchiesta la replica. Ma che reato è? Io sono una persona onesta. Effettivamente il capo di imputazione non è facile da comprendere e si spiega meglio di che cosa si tratta. In pratica il reato è quello, il traffico di influenze, vuol dire chiunque sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o ad altri vantaggi patrimoniali come prezzo della propria mediazione in lecita. Dunque questo sarebbe il fatto contestato. Tutto quanto collegato ad un procedimento dei PM Romani, uno straccio di un'inchiesta avviata a Napoli su presunti appalti pilotati del CONSIP, cioè la centrale degli acquisti della pubblica amministrazione a favore di un gruppo di imprese che secondo chi indaga faceva un riferimento ad un imprenditore, Alfredo Romeo, che risponde dell'accusa di corruzione. Questo dunque la notizia in estrema sintesi che fa il pari su ciò che sta accadendo, come messo nel titolo del quotidiano, in casa del PD. La nazione sceglie una linea netta e parla di scissione imminente, minoranza PD la scissione ci sarà, pronto il documento contro il leader. Fallisce l'incontro, Bersani e Guerini, i fili si stanno spezzando. E questa la sintesi con Renzi, come si dice nel titolo, invece che sarebbe pronto a proseguire con la propria linea, tira ditto, per un congresso lampo, se ne vanno e lui il correttato vuol dire che voteremo prima il segretario, primarie ad aprire e salta anche la mediazione di Franceschini. Dunque non si andrebbe verso una ricomposizione delle divisioni all'interno del Partito Democratico. A Roma invece c'è un aggiornamento sulla vicenda delle famigerate polizze del sindaco Raggi perché spunta una terza, Romeo Raggi spunta la terza polizza, la rabbia della sindaca. Lo denuncio, l'ex braccio destro nel mirino, il caso della cassetta di sicurezza vuota. Questa è un ulteriore particolare, appunto questa terza polizza che è emersa all'interno di questa vicenda, il fatto che Romeo avesse svuotato una cassetta di sicurezza, però lui ha spiegato, era stata prestata ad una amica per tenervi dei gioielli. Così ha spiegato Salvatore Romeo questo ulteriore dettaglio. Negli Stati Uniti, guardando agli esteri, la nazione ci fa il consueto aggiornamento su ciò che sta accadendo alla Casa Bianca. Russiangate, Trump difende il proprio staff, lo staff ed annuncia il bando bis sui migranti. I miei non hanno parlato con Musca, si indaghi sulla fuga di notizie. Il clima di rapporti tra Trump e la stampa statunitense non è dei migliori, sicuramente da un punto di vista di ritorni è quest'ultima che sta attraendo i vantaggi maggiori. Pensate dall'insediamento di Trump, le vendite dei quotidiani e l'audience dei notiziari, dei canali tematici All News negli Stati Uniti sono ricominciati a salire. Quindi aumento delle vendite, aumento dei telespettatori proprio attorno a tutte queste polemiche o fatti di cronaca che coinvolgono la Casa Bianca. Un rapporto con la stampa statunitense che si è dunque incrinato, anche dopo gli attanchi di Trump alla New York Times, il presidente statunitense, cambiando un rituale tradizionale, ha incontrato nel consueto briefing con la stampa i corrispondenti, è andato all'attacco e ha replicato a varie accuse e l'abbiamo visto negando l'involgimento dei propri uomini con Mosca. Ci sarebbe una pista circa la morte del fratellastro del leader norcoreano Kim Jong-un, pista che porterebbe verso una ben precisa direzione. Vediamo insieme, sarebbe stato usato del gas nervino per uccidere il fratellastro di Kim. Altri due arresti in Malesia, Pyongyang cremerò nel corpo dell'uomo. Governo intelligent sul coreano, sono convinti che Kim Jong-nam sia stato ucciso con del gas nervino denominato l'agente VX e che era stato usato già in altre occasioni da sicari di Pyongyang. Se fosse confermato sarebbe, scrive la nazione, come leggere la firma del mandante, vale a dire il leader nordcoreano. E dunque sarebbe questa la direzione che in qualche modo viene data alla lettura di queste indagini. La cronaca ci porta a ciò che è accaduto, ai Val d'Aosta, a Gressonei Saint-Jean, la morte di quattro sciatori sulle montagne del paesino della Valle d'Aosta. A Osta, strage di sciatori, travolti da una cascata di ghiaccio. Gressonei, quattro le vittime, tutti istruttori delle province di Massa Carrara e di La Spezia. Una quinta persona si è salvata, si trovava in un punto più alto rispetto a dove si è distaccata una lastra di ghiaccio. Ad assistere alla situazione altri sciatori che si trovavano su un'altra parete e anche dal loro racconto in qualche modo si ipotizza la causa di questo crollo di ghiaccio improvviso che ha poi determinato la morte di queste quattro persone. In pratica la parete sarebbe stata illuminata dal sole e quindi surriscaldandosi si sarebbe poi partita una catena di eventi che ha portato alla tragedia. Le altre persone si trovavano in un'altra parete invece che era all'ombra e che dunque è rimasta in qualche modo al sicuro. C'è una bella notizia per quanto riguarda gli amanti dell'arte che ci porta, pensate un po', a Casablanca dove è stata ritrovata una tela del guercino che era stata trafugata ben tre anni fa da Modena e sono stati arrestati i ricettatori. Una notizia importante sul fronte della cultura mentre la cronaca ci torna a far parlare di meningite non in chiave toscana, purtroppo la nostra regione ha registrato numeri altissimi, molto alti, comunque sul fronte delle persone colpite e decedute. La cronaca ci porta in Lombardia, a Milano, uccisa dalla meningita e torna l'incubo a Milano. La donna 49enne grave, una bambina. La regione comunque i medici assicurano non siamo di fronte ad una epidemia. Andiamo a vedere il terreno per alcune notizie nazionali e locali. Vediamo come apre il terreno in taglio alto. Notizie nazionali e regionali. La morte di quattro sciatori in Valle d'Ostra, lo abbiamo appena detto, mentre la cronaca ci riporta imprepotentemente in Toscana per un altro caso dell'omicidio di una donna strangolata dal marito dopo una lite successo a Porto Santo Stefano. Parlavamo dei rapporti Pistoia-Prato, lo accenderemo tra poco leggendo alcuni stralci degli articoli dei colleghi del Tirreno. Nasce il polo Prato-Pistoia dall'ambiente alle tasse e i sindaci firmano una lista di impegni comuni, mentre si dà spazio anche al raddoppio di Montecatino, o meglio del non raddoppio congelata. Dunque per il momento la tratta, circa 6 km dell'intera tratta che collegherà poi Firenze con Lucca e la Costa. Andiamo a Porto Santo Stefano. Stefano, femminicidio, la strangola con il filo del computer. Il marito a 70 anni uccide la moglie di 68 dopo una lite. L'uomo ha strangolato la moglie senza fare rumore. Alcumide di un'ennesima lite, scrive il Tirreno. Lo ha raccontato lui stesso al magistrato. Sua moglie, che aveva sposato con un anno e mezzo fa in seconde nozze, nonostante stessero insieme da più di 15 anni, da qualche tempo aveva qualche problema di depressione. Questo durante una lite. L'uomo ha detto, questa è la testimonianza, riportando anche il ricollettato di un altro pezzo. Mi dispiace, non volevo, ho perso la testa. L'uomo è stato fermato su di un treno che da Roma sarebbe poi arrivato a Pisa. Subito dopo mezzogiorno è stato fermato dai carabinieri di Orbetello. Sfogliando insieme abbiamo già visto le novità che emergerebbero dalla mille proroghe. C'è però sempre, a proposito dei provvedimenti del governo, la questione delle banche. Banche, i rimborsi ora sono legge. Andiamo a vedere, è stato approvato il decreto salva risparmio. Ecco le regole per i quattro istituti messi in risoluzione. Andiamo a vedere quali sono le principali novità che riguardano il provvedimento. Cancellata la lista dei debitori insolventi dalle liste delle banche salvate dallo Stato sono previsti rimborsi più ampi per le banche falliti mentre c'è uno stop a rimborsi per chi ha acquistato obbligazioni nel 2016. Vengono inoltre poi definiti nuovi criteri per determinare il prezzo delle azioni da attribuire ad azionisti e creditori delle banche quotate soggette a ricapitalizzazione precauzionale. Queste sono alcune delle principali novità contenute all'interno del decreto. Parliamo dunque dell'incontro Prato-Pistoia a cui abbiamo dedicato il nostro focus, l'approfondimento di ieri sera nel nostro telegiornale. Anzi approfitto ricordandomi che lo potrete rivedere oggi pomeriggio intorno alle 17. Il nostro focus, il nostro approfondimento è dedicato dunque a questo storico perché oggettivamente è la prima volta che avviene patto tra Prato e Pistoia, due storiche città rivali anche da un punto di vista sportivo che questa volta si uniscono per un cammino comune. Asse Prato-Pistoia così cammineremo insieme, si usa anche qui la metafora del movimento, dall'ambiente all'economia alla cultura. Ecco gli impegni e date da rispettare. Ne abbiamo parlato, anzi vi rimandiamo al nostro focus, comunque tra le varie cose, controlli congiunti della Polizia Municipale, ad esempio per la sicurezza ma anche per il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, ma si parla insieme di infrastrutture e strade, quindi di mobilità, di tasse e tariffe. Sarà questo uno dei primi dossier che saranno sul tavolo, ovvero quello di raggiungere una omogeneità delle costi della TIA nei due comuni, ma si parla anche di cultura e di intrecciare in maniera sempre più stringente gli eventi culturali delle due città. Nel corso di questa conferenza stampa però si è parlato anche di altro, si è parlato di sanità in particolare. Su questo fronte si sono analizzate le due realtà territoriali e per quanto riguarda quella di Pistoia, dal sindaco di Pistoia Bertinelli è arrivato un nuovo invito a cambiare per quanto riguarda l'ospedale San Jacopo. Sanità c'è da cambiare, inaccettabile che le sale chirurgiche siano utilizzate oggi, meno che al ceppo. A riguardo oggi ci sarà un consiglio comunale proprio sul tema della sanità, sostanzialmente il primo cittadino di Pistoia ha chiesto più soldi e più personale per l'ospedale di Pistoia. A margine di questo evento, cioè a margine delle discussioni che riguardano i rapporti tra le due città, naturalmente c'è stato spazio anche per la cronaca nazionale e i rapporti all'interno del Partito Democratico, abbiamo visto che evoluzioni la faccenda sta prendendo, i due sindaci si sono congiuntamente detti, pur diciamo così proveniendo da due filoni ispiratori diversi del Partito, entrambi si sono detti contrari alla ipotesi di una scissione. Un errore è dividere il PD, il Renziano Biffoni, il Bersaniano Bertinelli si ritrovano sul no secco alla scissione, titola il Tirreno. Gravissimo spaccare la principale struttura politico-istituzionale del Paese, hanno detto. Tra le altre notizie, purtroppo la cronaca, la morte di una donna travolta da un treno a Pistoia, alle porte di Pistoia, confermato l'atto dalle ricostruzioni della polizia del suicidio della donna, si indaga sulle cause, mentre non ci sarebbe almeno per il momento niente da fare per quanto riguarda il futuro dello storico locale in Piazza San Francesco alias Piazza Mazzini a Pistoia Fresco, che resta chiuso. Infatti dall'incontro tra i gestori del Comune se ne è uscito con un nulla di fatto e dunque la situazione rimane così com'è. Dicevamo del raddoppio della ferrovia nel tratto di Montecatini. Dunque si comincia il secondo lotto da Pescia, tutto fermo per quanto riguarda il tratto che coinvolge Montecatini, Chiasina, Uzzano e Bugiano. Dunque per questo non si procederà, saranno anche bloccati i lavori per il passaggio a livello che dunque non dovrebbero essere più toccati. Il nodo della faccenda è tutto legato al costo dell'intero progetto di questi sei chilometri che riguardano Montecatini. Verrà convocato un ottavolo, ma concretamente si è parlato di un'ipotesi che per il momento non era mai stata sul tavolo, quella di non raddoppiare il tratto montecatinese della linea ferroviaria. Questo comporterebbe, una volta completata l'opera, ritardi minimi nella percorrenza essendo semplicemente un breve tratto. Le amministrazioni locali però sono pronte a non mollare la presa. Infatti il sindaco Bellandi annuncia un terzo lotto e quello che ci riguarda la città e i comuni vicini nel frattempo si specifica comunque tutto rimarrà così. Dunque ci sono speranze circa questo tavolo che si è aperto per trovare una soluzione che appare però abbastanza complessa e difficile da raggiungere. Staremo a vedere che evoluzioni ci saranno. Andiamo a vedere velocemente alcune delle notizie scelte invece dai colleghi della Nazione, la questione delle poster l'abbiamo accennato nella prima pagina della Nazione scelta come titolo in taglio alto ma la fotografia è il patto tra Pistoia e Montecatini ma si parla anche della ferrovia e del San Jacopo. Sfogliando insieme l'allarme lanciato dai sindacati CISL e CGL del settore post la consegna della posta appresso sarà un caos e la previsione a rischio anche raccomandate e pacchi con l'allarme lanciato dai sindacati con l'arrivo anche nella Pistoiese di un sistema di consegna a giorni alterni. Sfogliando insieme il quotidiano andiamo a cercare qualche altra notizia vediamo appunto si decide nella prima pagina di Montecatini di parlare sul raddoppio e l'esito dell'incontro a Firenze è sorpresa in Regione, si titola mentre dalla Valdinevole sempre da Montecatini c'è la cronaca con una rissa in centro, due persone denunciate Parco di Cividale, ennesimo caso il Comune sta studiando interventi con le forze dell'ordine andiamo a vedere qualche notizia per quanto riguarda le principali testate online tra le molte nelle cronaca nazionali naturalmente spazio a alcune delle notizie che abbiamo trovato soprattutto per quanto riguarda la politica e la cronaca giudiziaria iniziamo però con una notizia che non abbiamo trovato sui principali quotidiani invece trova spazio sulle pagine del Fatto Quotidiano che si parla di Istituto Nazionale di Geofrisica e Vulcanologia perché in 24 ore, pensate, si sono dimessi i vertici della rete sismica nazionale il motivo? Insufficienza ed eccessivo sfruttamento in giorni in cui appunto il tema dei terremoti è di particolare attualità anche per gli esiti che questi stanno avendo in centro Italia è sicuramente una notizia degna di nota lo stesso giorno finiscono sul tavolo del Consiglio di Amministrazione le dimissioni del direttore del Centro Nazionale di Terremoti del responsabile tecnico della rete sismica nazionale centralizzata e poi sono arrivate quelle dei responsabili di funzione dell'osservatorio Etneo di Catania solo all'ultimo scongiurate quelle del capo della funzione informatica dietro a dimissioni che sarebbero legate a motivi personali scrive il fatto emerge un malcontento che da mesi serpeggia nell'ente l'ex presidente Boschi ha detto una situazione gravissima di mezzo c'è la sicurezza nazionale come detto nel titolo ci sono delle insufficienze, dei problemi adunque di strumentazione e quant'altro ma anche eccessivo sfruttamento e diciamo così la notizia è degna di nota proprio perché ormai in questi mesi il tema terremoti è sempre più di attualità circa la situazione all'interno del Partito Democratico sul Corriere della Sera si dà spazio alla presa di posizione dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi che lancia un messaggio alla minoranza del suo partito evitiamo l'accessione D'Alema con il virgolettato con un interrogativo distrugge se stesso se il capo non è lui questo dunque sarebbe l'aggiornamento un tentativo dunque di arrivare ad una soluzione dei problemi in casa del Partito Democratico mentre sul Repubblica si sceglie di aprire con una dichiarazione del ministro Franceschini primaria a maggio una rottura ora è incomprensibile Bersani appello ai Renziani fermatevi prima del voto viene il Paese queste sono le posizioni spazio naturalmente anche all'inchiesta che coinvolge il padre di Matteo Renzi mentre si torna a parlare dello stadio di Roma con le parole di Lombardi deputata da Movimento 5 Stelle la delibera di pubblica utilità va subito annullata negli Stati Uniti si dà invece aggiornamento su ciò che avviene alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump che come dice Repubblica perde pezzi perché Howard l'uomo che era stato definito per sostituire il dimissionario Offrina ha rinunciato tra i vari temi anche andiamo a vedere sull'apertura della stampa di questa mattina è tutta dedicata alla situazione dei taxi e la rivolta dei tassisti di Uber contro la mossa del governo un mercato quello legato al trasporto dei taxi che dice la stampa è mal regolato e vale 2 miliardi di euro con questo è davvero tutto non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la cronaca locale dunque vi ricordiamo l'unica notizia dei dati di nota di queste prime ore del mattino si riferisce ad un incidente stradale fortunatamente non particolarmente gravo sulla Nuova Pratese in via Toscana a Pistoia una persona ferita è stata portata in ospedale fortunatamente in codice verde per il resto non ci sono particolari notizie e dunque ci congediamo in questo modo grazie per essere stati con noi vi ricordo che l'informazione torna su TVL come sempre alle 14.20 con il nostro TG60 mentre l'edicola del mattino vi dà appuntamento a domani mattina alle 9.30 grazie e buon proseguimento di giornata grazie